la paura di guidare è più diffusa di quanto si possa pensare ed è molto invalidante per chi ne soffre ciao sono patrizia pietropaolo e oggi ti parlerò della maxofobia cioè della paura di guidare e soprattutto di cosa fare per sconfiggerla iniziamo intanto col chiederci perché si ha paura di guidare una delle cause più comuni e immediate da considerare è quella di temere di avere un attacco di panico mentre si ha la guida se ne soffri ad esempio è molto più facile che tu abbia paura di metterti in macchina precedenti poi esperienze di incidenti d'auto anche se non gravi possono influire negativamente generando uno stato di ansia e conseguente blocco verso la guida ma non è detto che l'incidente debba essere vissuto in prima persona per alcuni è sufficiente addirittura vedere delle immagini in televisione o magari sentirlo raccontare da qualcuno che ha vissuto questa esperienza la mancanza di fiducia poi nelle tue capacità di guida è un'altra motivazione che può bloccarti così come la pressione esercitata dagli altri automobilisti per esempio soprattutto quando devi guidare nel traffico intenso e c'è chi ti taglia la strada chi suona il clacson chi gesticola furibondo insomma sono tutte azioni che possono metterti sotto pressione ma veniamo ai sintomi quali sono ovviamente la sensazione di angoscia ed evitare di guidare in prima cosa qui si aggiungono poi altri sintomi che ricordano molto quelli dell'ansia magari generica come l'accelerazione del tuo battito cardiaco un senso di confusione di disorientamento il respiro che sembra mancarti e le mani che cominciano a sudare ma allora cosa puoi fare se alla base c'è la paura di un attacco di panico è proprio su questa situazione che devi lavorare puoi trovare in questo caso degli utili consigli nel mio video ansia che fare di cui trovi il link in descrizione in una situazione più generale ecco però sei consigli che ti aiuteranno sicuramente non andare in macchina da solo ma porta magari qualcuno con te non è indispensabile che questa persona sappia perfettamente guidare basta che per te sia qualcuno di riferimento che sappia e possa infonderti calma poi pian piano prova a fare dei piccoli tragitti che via via allungherai senza questa persona in auto con te fino a che non riuscirai a riacquisire la completa padronanza e potrai guidare e andare ovunque oppure all'inizio guida un pochino ogni giorno per tragitti brevi e solo una volta che avrai superato la paura di guidare di giorno per esempio potrai guidare anche di notte e poi ovviamente allungare questi tratti che fai se ti capitasse sfortunatamente di avere anche un piccolo incidente questa indicazione vale più che altro per prevenire l'insorgenza della paura di guidare ricomincia subito e sii consapevole del fatto che più aspetti più la paura di guidare tenderà a consolidarsi la tua paura di guidare invece riservata solo ai tragitti in autostrada anche questa è una paura abbastanza diffusa nel traffico cittadino magari c'è un po' di confusione ma va tutto bene e quando imbocchi l'autostrada che hai come un blocco comincia a guidare anche qui magari accompagnato da qualcuno scegliendo prima un'autostrada poco frequentata con poche e con un numero scusa limitato di corsie una volta che poi piano piano ti sarai abituato a queste condizioni potrai passare ad autostrade più frequentate non sei sicuro delle tue capacità quando sei alla guida e quindi rinunci è vero che hai già seguito ovviamente un corso per ottenere la patente ma magari hai ancora delle insicurezze soprattutto se ti si presentano situazioni particolari prendere qualche altra lezione pratica ti farà sentire più sicuro delle tue capacità perché acquisirai qualche abilità che magari ti mancava così da superare il problema se poi ami la musica se è piacevole per te puoi ascoltarla ma ovviamente a basso volume questo potrebbe aiutarti a rilassarti però ricordati che il contrario cioè la musica ad alto volume magari anche eccitante è assolutamente da evitare quando sei alla guida se poi tutto questo non è sufficiente perché magari la tua paura ha cause più profonde legate alla tua autonomia allora un professionista esperto potrà sicuramente aiutarti in modo che guidare diventi quello che deve semplicemente essere un'esperienza assolutamente piacevole ciao a presto